ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio ancora una volta dedicato a voi ebbene si ancora una puntatella dedicata alla reaction ai vostri video cioè ai vostri ologi a voi che ce li mostrate e a tutto l'ambaradan che c'è intorno con ambaradan intendo anche ambiente circostante no le vostre altre passioni oppure i luoghi e quali vi trovate perché in questo periodo qua così estivo mandate anche i video dal mare direttamente dalle esotiche location nelle quali vi trovate spesso il terrazzo di casa vostra ma a volte sono anche le seychelles le cosiddette seychelles siamo tutti contenti come partecipare lo sapete basta inviare un video no all'indirizzo e me che trovate in sovraimpressione caricatelo prima con www.wetransfer.com che almeno faccio prima scaricarlo è per me e poi dopo li guardiamo qua tutti assieme siamo un pochino indietro siamo ancora a qualche video di maggio è rimasto ma piano piano ci stiamo mettendo in pari diciamo così comunque dai bando a vi faccio vedere l'oraggio del giorno che oggi è questo bellissimo ronjin legend diver e ancora una volta con il cinturino in canvas in tessuto in tela questo cinturino qua perché mi piace perché tanto perché vado al mare quando faccio il bagno si asciuga perché in tela si asciugano se si dovesse rovinare non è un problema non ci interessa si asciuga e poi perché è chiaro a questo color torto era chiaro che sulla pelle abbronzata fa il suo sporchissimo lavoro no cioè tutte le signorine del mare si girano e guardano guardano me vedono l'orologio bianco no chiaro insomma via avete capito si acchiappa con l'origen legend diver e il cinturino in canvas detto questo adesso bando ai discorsi inutili la barra spaziatrice ti aspetta qui e diamo un colpetto così iniziamo vai ciao davide sono diego da milano e ho 14 anni 14 anni io e mio padre ti abbiamo iniziato a seguire nel 2020 quando eravamo costretti a rimanere in casa e poi abbiamo continuato fino a conoscerti all'ultimo watch meeting a viareggio dove siamo divertiti un sacco bravo e oggi volevo mostrarti la collezione che condivido con mio padre da qualche anno allora questa tovaglia qua è veramente spaziale diciamo la verità invece siamo abituati a vedere quelle con i fiorellini questo qua è uno stile che riprende un pochino il trash polka voi andate a cercare trash polka cos'è su internet dallo zio google e vedrete che è uno stile di tatuaggi inventato da un tatuatore mi sembra tedesco anche registrato il marchio che prevede questi puntini neri su rosso i colori macchiati è veramente bello particolare date a vederlo secondo me ha valore anche come branca artistica a sé estante al di fuori del mondo del tatuaggio la collezione è fatta sia da orologi di famiglia che orologi che abbiamo acquistato poi in un secondo momento vai vorrei iniziare con gli orologi appartenuti ai rispettivi nonni di mio padre visto che sul canale si è parlato spesso di orologi assegnati dalle ferrovie ora ti mostro due esemplari realmente assegnati dalle ferrovie bravo che sono due per seo il primo è un orologio da tasca a carica manuale con il fondello con il logo delle ferrovie e la matricola questo è stato assegnato al nonno di mio padre per la sua assunzione in ferrovia nel 1950 a te 50 già ancora con gli orologi da tasca? questo invece è un altro per seo però da polso e anche questo fu assegnato per l'assunzione nelle ferrovie allo zio di mio padre alla fine degli anni 50 e anche questo è a carica manuale bravo anche lui ovviamente è il fondello con il logo delle ferrovie e la matricola bravo passiamo a questo nongino admiral che è sempre appartenuto al nonno di mio padre ha una cassa tonno e gli è stato cambiato il suo bracciale in maglia milanese con questo aftermarket gli è stata effettuata una revisione completa e ora funziona abbastanza bene abbastanza? monta il calibro 66 51 e se riesco ti allegro anche qualche foto 66 51 dal caso attraverso il suo numero seriale e la tabella del tuo sito siamo riusciti a risalire all'anno di produzione che dovrebbe essere tra il 74 e il 75 tra il 74 e il 75 perché il 66 51 altri non è che il calibro 431 430 cioè l'ultracron è l'ultracron che era 36.000 alternanze e poi dopo negli anni 70 è stato abbassato a 28.000 alternanze orarie e rinominato 66 50 o giù di lì dovrebbe essere quello se non mi sbaglio potrei anche sbagliarmi perché c'è anche il 69 brababà che invece deriva dalla record va bene dai dovrebbe essere quello di questo calibro sappiamo molto poco e se hai qualche informazione più se ce la puoi riferire grazie e te l'ho data ora questo qui è un silver che invece è appartenuto all'altro nonno di mio padre che è un marchio svizzero scomparso dopo l'esplosione dei quarzi a differenza degli altri orologi però di questo sappiamo ben poco infatti quando l'abbiamo trovato non era funzionante e le abbiamo fatto una revisione completa e abbiamo sostituito vetro e cinturino bravo complimenti adesso ti mostro due orologi appartenuti ai miei nonni questo è un Seiko 5 che era di mio nonno e ci ha lasciato dato che non lo utilizza più e lo indosso spesso volentieri per andare a scuola bravo mentre questo qui è un Omega Deville che invece di mia nonna ha carica manuale e placato d'oro e anche questo ogni tanto mio padre lo indossa di questo abbiamo anche la garanzia di quando è stato comprato nel 1981 pensate che bello ganso passiamo adesso questo tisso PR 516 che abbiamo acquistato da un orologio di fiducia in buone condizioni è un 35 mm di diametro cassa e risale agli anni 70 ed è anche questo un orologio a carica manuale bello assai questo tisso la serie PR e bla 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 è sempre il suo perché poi ce ne sono anche un sacco in vendita degli anni 70 lo avevo visto un sacco anch'io tra l'altro li ho anche comprati poi li ho rivenduti per concentrarmi su un orologio come al solito devo farti complimenti per la proprietà di linguaggio e la capacità espressiva che stai dimostrando in questa esposizione bravo bravo bimbo avrai lunga strada te si mica come certi che fanno mamma mia passiamo poi a questo mega seamaster anche questo è un orologio di famiglia acquistato da mio nonno in Svizzera negli anni 70 è completamente ancora originale con la corona logata e il vetro in plexiglass con il logo mega impresso al centro ha un bellissimo bracciale integrato con dei riflessi bellissimi e il quadrante dorato è a carica automatica è un 35mm di diametro cassa con il calibro 10-20 anche questo è un orologio che indosso ogni tanto nelle occasioni un po' più eleganti bravo 14 anni con mega ci vediamo velocemente due quarzoni uno è questo Moonswatch che tutti conosciamo e lo abbiamo acquistato l'anno scorso e lo indosso per andare a scuola ogni tanto mentre quest'altro è sempre uno Swatch però è una riedizione di un modello storico e mio padre l'ha voluto acquistare perché è una riedizione di un modello che appunto lui aveva comprato quando era piccolo e ha una cassa molto grande vabbè è di moda sto qua passiamo poi a questi due diver il primo è questo che non ha bisogno di presentazioni è un Seiko SKX 009 a cui abbiamo sostituito il suo cinturino in gomma che era diventato un po' duro con questo bracciale strapcode lo utilizziamo spesso al mare alternandolo invece con questo Citizen Promaster Full Lume ci sono tutti e due bravo entrambi hanno 200 metri di impermeabilità e 42 millimetri di diametro cassa ora ti mostro i miei orologi personali in ordine di acquisto partendo da questo Seiko 5 che ho visto in un video di un amico del canale e mi è stato regalato qualche Natale fa dai miei genitori e mi è piaciuto subito dopo averlo visto appunto nel video questo qui invece è un Hamilton Kaki King che abbiamo acquistato in una gioielleria in un centro commerciale che frequentiamo spesso che era concessionario Hamilton è un 40 millimetri di diametro cassa e monta il calibro H10 e lo indosso molto spesso con piacere per andare a scuola o per uscire con gli amici infine ti mostro questo Tiso PRX che è il mio orologio preferito di quelli miei personali e mi è stato regalato per la Cresima dai miei genitori è un 40 millimetri di diametro cassa e monta il celebre Vaurmatic 80 con 80 ore di riserva di carica e mi piace un sacco la lavorazione del quadrante che ha dei bellissimi riflessi proprio come il suo bracciale integrato a sgancio rapido che ogni tanto alterno con il bracciale di pelle ha il fondello a vista e lo indosso molto spesso per andare a scuola ma anche nelle occasioni più eleganti passiamo infine a questo bellissimo Tudor Black Bay Crono colorazione Panda con i due contatori a ore 3 e ore 9 con la data ore 6 l'abbiamo regalato a mio padre per i suoi 40 anni è un orologio automatico con 70 ore di riserva di carica ha un 41 millimetri di diametro cassa ed è precisissimo è certificato Coski il suo calibro MT5813 che è di manifattura Tudor il suo fondello è chiuso come tipico di Tudor e la colonna e i due pulsanti crono sono a vite che infatti gli permettono di avere un'impermeabilità di 200 metri è un orologio adatto a tutte le situazioni come si può vedere dal bracciale che è molto segnato infatti mio padre lo utilizza molto bene così deve essere e questo orologio insomma è molto molto bello molto molto bello bravo spero che pubblicherà il video non abbiamo messo tutti gli orologi per questioni di tempo e spero di poter mandarti un altro video in cui te li mostrerò tutti approfitto per farti tantissimi complimenti per il canale ci vediamo alla prossima mamma mia ragazzi che esposizione sto ragazzino qua ha 14 anni e mangia in testa a tutti e anche a suo babbo secondo me gliel'ha fatto fare il video perché ha detto fallo te che parli meglio di me trac gli ha fatto fare il video ha una collezione cioè intrisa di passione dagli orologi del bisnonno perché il nonno di tuo babbo è il tuo bisnonno poi ci sono gli orologi del babbo e poi sono anche fortunati i tuoi genitori perché di solito il famoso orologio della comunione o l'orologio della cresima che si fa in regalo per il 99% dei bambini è un peso un peso sullo stomaco nooo è come dirgli mangia il minestrone uguale ti regalo l'orologio per la cresima io volevo la playstation loro invece sono fortunati perché non sbagliano ogni volta che c'è un'occasione importante ti regalano un orologio e te riesci ad apprezzarlo e siamo tutti contenti la tua passione continua anche perché voglio dire c'è il 6xkx e il citizen promaster proprio i due capostipiti diciamo dell'orologeria entry level ma professionale hai fatto delle ottime scelte non so cosa dirti il prx è il tuo preferito ci sta poi ho visto il black bay lì ho detto cron ma sei tuo è un po' troppo importante va bene tutta la passione tutto quello che vuoi ma un orologio troppo costoso troppo importante a un bambino anche no cioè facciamo in modo che uno cresca piano piano che dia il valore ai soldi agli oggetti alla passione e riesca poi a procurarsi qualcosa di importante per merito suo oppure perché è un'occasione veramente importante una laurea e allora te lo regalano va bene comunque bravo mi sei piaciuto moltissimo guardate qua i ragazzini di oggi a 14 anni come si mettono di impegno e ci mangiano in testa tutti noi messi assieme e mi ci metto anch'io ragazzi perché se sto qua a 14 anni parla così quando ne ha 20 cosa fa? boh tanta roba bravo prossimo video ciao Davide complimenti per il canale grazie per come lo gestisci con impeto e spontaneità tipica di noi cararini bravo voglio presentarti questa mia piccola collazione illustrandoli in un ordine cronologico almeno per quanto vi ricordo ho deciso di presentarteli adoperando questa scenografia perché so che sei un appassionato di aeronautica come del resto lo sono io e passiamo a presentare gli orologi bene tutti gli altimetri cos'erano? il primo orologio è questo zenith stellina mi è stato regalato per la mia prima comunione chiaramente l'ho usato pochissimo perché ero un ragazzo vedi vedi è del tutto originale ha la sua corona originale l'ho fatto lucidare e ho fatto mettere una un cinturino all'uovo purtroppo non ha la fibra originale ma mi è stato detto che presto me la daranno originale ecco questo qua è un caso rispetto al bimbo di prima gli hanno regalato per la cresima per la comunione questo orologio qua e sicuramente non l'ha apprezzato lì per lì perché voglio dire ti regalano l'orologio sì grazie lo metti via e vai a giocare a pallone no? però dopo nel tempo l'ha rispolverato l'ha riscoperto e alla fine è servito anche in questo caso il secondo orologio è questo Longin Montreux che ho comperato quando sono andato all'università prima d'allora non usavo l'orologio ma poi a certo punto ho dovuto per forza comprare un orologio perché se non sarei arrivato tardi a prendere il treno e di conseguenza agli orari delle lezioni è un orologio a cui tengo perché ha questa forma particolare insomma è stato ed è precisissimo e lo utilizzo ancora anche se purtroppo lo metto poco perché non essendo assolutamente impermeabile dovrei toglierlo per fare la doccia io purtroppo non sono abituato a togliere l'orologio mai e quindi rischio di fare dei danni indossandolo il terzo orologio è questo Bon Mercier che ho fatto risistemare da poco questo Bon Mercier è quello che te definiresti un quarzon perché è un orologio al quarzo? mi è stato regalato dalla mia ex moglie e a quel tempo credo nel 1985 andavano di moda questi orologi extra piatti come vedi è finissimo ha un bracciale integrato direi che è un ottimo orologio un bello orologio però insomma direi che ha fatto il suo tempo ora non mi verrebbe più neanche in mente di indossarlo è perché risulta adattato ha un aspetto che risulta dell'85 proprio si vede che è un orologio degli anni 80 poi magari si rispolvera come tutto è ciclico magari si ritornano fuori di moda gli orologi al quarto sottili col bracciale così cosa ne sappiamo? però da tenere lì in collezione fa sempre piacere poi specie se è originale dell'85 perché mo' a me dell'85 mi sembra anche no? è ieri ma in realtà l'85 ragazzi sono già passati 30, 39, 40 anni quasi 40 anni mamma mia quarto orologio è questo Hamilton cronografo Hamilton che ha un 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 movimento 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 è un value 7750 mi è stato regalato credo nel 1970 70 nel 1993 questo è un 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 bello orologio che attualmente è in uso al a mio figlio beh praticamente tutti i giorni meno male è un bello orologio è un rolex explorer 2 ci diamo un topino vuoi? si tratta del un orologio secondo me molto bello perché gli explorer sono degli orologi nella nella linea rolex che a me piacciono tantissimo che mi è stato regalato da mia madre pensate insomma dai miei genitori quando l'ho comprato aveva un quadrante bianco che io poi dopo ho fatto sostituire perché la leggibilità del quadrante nero per me è superiore e quindi ho fatto cambiare il quadrante e le lancette poi quando sono andato a rivedere le lancette e il quadrante che mi avevano lasciato ovviamente il concessionario mi sono accorto che il quadrante è ingiallito e praticamente ha assunto quella colorazione chicchi di riso che è molto apprezzata dai 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 collezionisti eh sì il sesto orologio è questo airchino sì ma non è chicchi di riso ora ci ho ripensato no? è chicchi di mais chicchi di mais non è chicchi di riso chicchi di mais perché sono in realtà sono gli indici che virano verso quel colore giallognolo rispetto al quadrante no? il tuo è virato il quadrante non lo so se si può definire chicchi di mais va bene non è chicchi di riso comunque ora volendo parlare di speculazione volendo fare furbacchioni te potresti per assurdo rivendere quel quadrante lì a qualcuno e farci un sacco di soldini magari magari non è più nemmeno il momento però gli vendi quel quadrante lì per trasformare un orologio in virato particolarmente no? c'è tutto un magna magna all'intorno tutto un e vabbè si stava meglio quando si stava peggio sai rosso di sera bel tempo si spera di un orologio particolare perché come vedi è un air king con la data precision questo orologio mi è stato riferito che è stato immesso in quegli anni credo nel 1972 o 82 non ricordo bene da rolex con lo stesso meccanismo del day just ma a un prezzo minore perché non c'è scritto come vedi cronografo ufficiale certificato no? e quindi l'hanno cercato di metterlo in commercio ad un prezzo inferiore ma l'operazione commerciale non è andata secondo quanto si dice a buon fine per cui è stato praticamente prodotto soltanto per pochissimo tempo questo qui l'avevo comprato in queste condizioni non l'ho mai toccato da un orologiaio di lucca ah bravo bel colpo il settimo orologio è questo air king meraviglioso explorer questo explorer 1 meraviglioso che ho comperato nuovo chiaramente ed è un secondo me l'air king scusa l'explorer 1 nelle sue varianti e misure questo è un 36 con la referenza 14 270 questo l'air king nelle varie sue referenze nelle varie misure per me è uno degli orologi da mettere tutti i giorni in qualsiasi occasione senza aver paura di sfigurare mai quindi si può mettere sia con un abito sportivo per andare ad una cena elegante sia tutti i giorni per uso sportivo ma certo l'altro orologio l'ottavo orologio è questo Submariner che ho comprato nuovo anche questo per il cinquantesimo questo qui è il cinquantesimo scusa l'orologio fatto da Rolex per festeggiare il cinquantesimo del Submariner e come si vede non so se si vede bene questo qui è la referenza Fat Four perché ha questo 4 fatto così che è raro e quindi è molto apprezzato dai collezionisti poi c'è questo turno graff che è un orologio preferito l'orologio che lo utilizzo tutti i giorni secondo me è un orologio meraviglioso che Rolex ha tolto dal commercio e non capisco perché è bellissimo a mio parere per finire ecco il famoso sogno dei desideri di tutti il Daytona acciaio con quadrante nero che tutti quanti agognano ed è effettivamente un bello orologio io ho comprato l'ho sognato tanto l'ho ordinato quando mi è arrivato me lo sono messo ma poi mi sono accorto che non lo vedevo non è di immediata leggibilità per cui lo utilizzo veramente poco spero di essere stato abbastanza nei tempi ti ringrazio per l'ospitalità e presto posterò altri due video uno con il resto della collezione e l'altro con i vintage che ho ereditato ciao buona sera grandissimo grandissimo ti do un bel sette e mezzo ti do un bel sette e mezzo perché la collezione a un certo punto diventa Rolex centrica però la tua parziale giustificazione va il fatto che hai detto che poi dovrai fare farai altri video con gli altri orologi quindi capisco bene che è venuta così con tanti Rolex alla fine perché è la prima parte della collezione poi hai altri orologi quindi non è una una critica la mia dai lasciala perdere bravo beh gli orologi passione tutto quello che ti pare non mi ricordo più gli orologi che ci sono ah beh quei simpatici altimetri che erano o strumenti di misurazione che erano all'inizio per gli aerei sarei stato curioso anche di sapere da quali aerei provengono perché sono tutti in lingua inglese mi sembra sì sì tutti in lingua inglese no sai magari uno italiano tedesco poi gli orologi quelli della comunione zenith bla 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 boomer si è il bellissimo hamilton cronografo con 77 50 naturalmente e poi tutta la sfilzata di Rolex via un bel sette e mezzo te lo doppio perché hai anche orologi particolari fat for quello con il quadrante virato insomma dai torno graffi belli orologi complimenti amico compaesano prossimo video sono fabbricio da rimini rimini e tu mi hai già pubblicato quattro video e quattro io ti faccio vedere una recessione molto corta dell'orologio che uso io qui a rimini al mare a rimini al mare è uno squale 1521 bello praticamente il modello più vecchio con la scritta squale anche lateralmente molto robusto è un orologio da 1000 euro io praticamente al mare uso questo va bello non mi ha mai dato problemi ebbè è così non sto all'encare il caibo ma ormai questo orologio sul tuo canale è stato visto e rivisto ok davide un saluto a tutti quelli che seguono il canale e a te ciao grazie grazie mille ragazzi questo tipo di format qua col video che dura meno di un minuto 40 secondi 50 dal mare o dalla location di vacanza a me piace perché spezza pochino ci fa vedere siccome quando io li scarico i video l'anteprima la vedo nel senso che la prima il primo fotogramma che mi compare qua mi compariva il mare come quello dopo no e quindi li prendo gli do la priorità perché se no se lo pubblico a dicembre non ha più senso quindi quando vedo il mare lo pubblico trucchetto un attimino quindi mandate il video di 40 50 secondi per far vedere dove siete che l'orologio 38 mm super compatto 200 metri di impermeabilità particolarità di questo bracciale che si rifà a un modello anni 60 e ci faccio delle belle notate bravo saluti tutti i nemici del canale ciao e buone vacanze e buone vacanze ecco in altro ce lo vedete in acqua no si fa che parla da solo fa le riprese la gente intorno lo guarda diciamo mi sto rimbambito qua che invece di godersi la vacanza sta a fare i video a parlare va bene dai comunque sono simpatici sti video vi piacciono ripeto mandateli ciao davide ciao di amici del canale io sono marco e oggi vi presento brevemente la mia collezione di orologi brevemente iniziamo con un diesel al quarzo non c'è niente da dire mi ha tolto la batteria lo tengo nel cassetto o non lo utilizzo praticamente più però da qui è iniziato tutto meno male continuiamo con un casio pro trek ah già è comprato durante il periodo delle superiori vabbè e lo uso per qualche scampagnata in montagna e già ha parecchi segni di usura ma anche di questo non ha molto da raccontare no continuiamo con citizen pilot anche il quadrante panna lo utilizzo per lo più per l'estate eco drive funziona molto bene fa la sua sporca figura al polso più che altro però con questo cinturino appariscente ce l'avevo anch'io di altro colore ma continuiamo con casio edifice edizione limitata onda racing orologio un po particolare comprato più per lo più per la sua rarità ammetto un po difficile da abbinare col cinturino bianco e questa questa forma e questo quadrante lo tengo appunto per la sua rarità se si può dire così carico quadrante carico continuiamo con un altro casio pro trek la versione evoluta di quella prima anche questo non ha molto da raccontare da probabilmente lo venderò meno male poi poi sempre rimanendo in casio il mio primo duro sub casio marlin duro l'ho comprato quando ancora costava 80 euro funziona molto bene lo utilizzo per andare in acqua in piscina funziona molto bene impermeabilità 200 metri fa il suo poi su sempre per l'estate citizen eco drive orante giallo volevo un orologio colorato una cosa simpatica da tenere al polso durante l'estate questa mi sembrava un'ottima alternativa e anche questo non ha molto da raccontare no dopodiché inizia l'era tra virgolette degli automatici ho iniziato con questo seco 5 simpatico per il prezzo a cui l'ho pagato devo dire un best buy e tant'è che sulla falsa riga di questo ne comprai praticamente subito dopo un altro seco 5 explorer con quadrante blu lo indosso praticamente tutti i giorni come anche quello col quadrante nero funziona molto bene e credo che sarà un orologio che terrò a vita praticamente ma bravo a vita dopodiché per qualche occasione speciale tra virgolette si può dire bulova lunar pilot è un quarzon però un quarzon un pochettino più raffinato possiamo dire così rispetto agli altri gli ho messo il suo cinturino originale durante le serate fa la sua sporca figura devo dire mi piace molto questo orologio è un quarzo dopodiché rimanendo sempre sui automatici o citizen promaster classico con questo cinturino lo utilizzo praticamente tutta l'estate al mare in piscina per uscire sono innamorato di questo orologio della sua robustezza della sua storia e non ha bisogno di troppe presentazioni ma certo quanti orologi indossi l'estate 20.000 sulla falsa riga del citizen promaster qualcosa di un pochettino più vintage o slim turtle seiko l'ho comprato per un'ottantina di euro e non funzionante ho trovato un bravo orologiaio che se l'è preso in carico lo ha sistemato per timore di non romperlo diciamo che non lo utilizzo tanto quanto vorrei però mi pare un bel pezzo bello la collezione molto bello molto bello bravo questo qua mi piace tanto dopodiché continuiamo con una particolarità questo bradley mickey mouse carica manuale è simpatico l'ho comprato per lo più perché era di topolino mi sembrava un orologio simpatico da tenere al polso ogni volta che lo indosso qualcuno mi chiede che cos'è da dove l'ho comprato lo feci arrivare dall'inghilterra qualche tempo fa l'ho fatto revisionare non un maestro di precisione però simpatico mi piace mi piace indossarlo simpatico l'ho preso al circo dopodiché sulla riga del vintage ho ereditato questo per sé o per le ferrovie dello stato era di mio padre fatto revisionare molto preciso carica manuale e lo indosso anche questo non tantissimo ma più che altro per paura di romperlo o rovinarlo ulteriormente mi piace la patina che ha preso però non vorrei rovinarlo più che altro per il ricordo sempre gli orologi ereditati abbiamo questo lorenz al quarzo non lo indosso mai praticamente vi cambio solo la batteria e penso che non appena questa si scaricherà la toglierò lo riporrò nel cassetto anche questo era di mio papà e lo tengo per ricordo non ha niente di particolare ma certo dopodiché questo mio acquisto invece non è stato ereditato jungans elettronic mi piaceva per la sua particolarità del movimento che un ibrido tra un meccanico e un movimento a batteria funziona molto bene fondo di magazzino pagato una cinquantina di euro non sarà il più pregiato degli un guns ma proprio per la sua particolarità del movimento mi piace parecchio sì questo qua dovrebbe incassare lo stesso calibro che utili che utilizza il mio logine vintage di quegli anni lì che si chiama non me lo ricordo come si chiama è quello che ha cioccolatone c'è l'occhio placato dietro c'è il calibro elettronico con il bilanciere ancora quindi è ibrido in quel senso lì sì lo faceva esa quel calibro lì e poi lo utilizzavano jungans logine omega zenith bla bla a maggior parte dei casi svizzere lo utilizzavano e su quadrante c'era scritto o elettronic o qualche altra scritta dopodiché questo sempre diver sub belle li ho un movimento svizzero non ho trovato molto sulla sua storia sulle sulla sua dall'azienda anche questo l'ho fatto revisionare molto preciso carica manuale sempre e mi piace molto i segni che si porta dietro ma non saprei proprio che cosa raccontarti di questo mi piaceva veramente per lo più per la particolarità del quadrante e delle lancette sì è strano questo orologio qua c'è il 6 e poi c'è il 9 che è alla rovescia del 6 nel senso che aspetta andiamo andiamo un attimino più avanti e che hanno questa forma quadrata niente dai è dato via e ci aveva il 6 il 6 qua e il 9 alla rovescia si capiva niente vabbè poi c'è la seconda corona era di ottone l'ho vista adesso vi rimetto un'immagine qua così la vedete la seconda corona di ottone cromato che la cromatura è andata via dopo di che abbiamo questo racchetta marine 24 ore questo era di mia madre non funzionante e questo lo tengo per l'unica particolarità che in ogni orologiaio da cui sono stato mi diceva no non vale la pena ripararlo non vale la pena sistemarlo e visto che io volevo averlo funzionante a un certo punto mi sono stufato come si può dire e me lo sono riparato da solo cioè per fortuna è un orologio molto semplice quindi ho preso veramente quattro cacciaviti con due tre giorni di lavoro e molta molta paura sistemato funziona tiene ancora il tempo molto bene ovviamente non lo indosso per paura di rovinare tutto il lavoro che ho fatto però carino carino anche lui non è niente di che ma la sua storia è per affetto lo tengo io non capisco no qualsiasi professionista ora qua si parla di orologiai che dice io voglio fare un lavoro non ne vale la pena con quale criterio dici non ne vale la pena nel senso che il costo della tua mano d'opera della tua prestazione è maggiore rispetto al costo dell'orologio a te non te ne deve interessare non c'è io lo voglio riparare e ti dico dammi x soldi e te lo riparo e ti sei contento non ne vale la pena lascia che siano gli altri a decidere se ne vale la pena o meno voglio 100 euro l'orologio ne vale 50 sappilo ok tieni fatto ultimo ma non ultimo forse per importanza un altro brelli di topolino al quarzo questo l'ho regalato alla mia fidanzata e niente è praticamente la sorella piccola di quello di prima e niente simpatico anche lui fa le stesse effette di quell'altro al polso della della fidanzata va bene ultimo ma solo per dargli il giusto spazio e c'è l'orologio utilizzo al lavoro un casio 20 euro demolito funziona e niente basta va bene questa era la mia collezione spero che vi sia piaciuta e dovrei essere stato dentro anche con i tempi ma si e aspetto un tuo giudizio un tuo parere grazie mille e ciao a tutti ciao 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 io non sei perché non è mica non è mica che mi è piaciuta tanto mi ha fatto vedere un sacco di quarzoni di robe particolari all'inizio casio duro il caso quell'altro il caso il citizen ecco drive poi c'è insomma qualche c'è il citizen pro master automatico quel secco bello diver vintage poi c'è mickey mouse poi un bel per sé o poi un lorenzo nuovo al quarzo un guns elettronica quel vintage in mezzo che non si capisce racchetta insomma un 6 streaming sito te lo do mi sembra che perché mi sembra che sia andato un po a caso nella collezione anche prendere roba che secondo me potrebbe essere evitabile c'è un sacco di orologi digitali anche e concentrarti magari più su qualcosa di qualità meno ma di qualità tanti ma buttati lì un 6 chiaramente la passione c'è lo sento lo vedo lo percepisco che sei un appassionato ed è per questo che ti invito a continuare ma a cercare di insomma di migliorare leggermente questo è quanto torni a settembre ragazzi io direi che si può finire qua perché oggi non ne ho più voglia sono stanco devo andare a vedere i gattini su instagram loro sì che mi rilassano mica questi video qua con gente che mi fa vedere i quarzoni ora io vi ringrazio per essere arrivati fino qua aver guardato i video il video il presentatore l'orologio del presentatore e gli orologi degli amici del canale e vi ricordo gli appuntamenti fisici come sempre sono quando voglio io il spesso possibile qui su youtube e vi ringrazio per ciò che ho poterlo oh 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 Grazie per la visione!